In prefettura Pescara, primo bilancio dei controlli straordinari nel quartiere Rancitelli del capoluogo adriatico, il comitato per l'ordine della sicurezza pubblica si è riunito per fornire i primi dati, ma la campagna prosegue. Roberta Mancinelli. Ho voluto questo incontro oggi per ringraziare le forze dell'ordine per le attività che svolgono quotidianamente, in particolare per i servizi che hanno messo in campo sul quartiere Rancitelli. Dal 5 al 10 ottobre, nel cosiddetto ferro di cavallo, si sono alternati carabinieri, polizia di stato e municipale e guardia di finanza per una serie di controlli straordinari. A fronte di 345 persone identificate, 7 sono state denunciate, 263 veicoli controllati, di cui 11 tra auto e moto sono stati sequestrati. Trovati hashish, marijuana e cocaina, oltre a un bilancino di precisione e diverse telecamere di videosorveglianza installate in violazione delle norme sulla privacy. I controlli hanno riguardato anche 10 locali per gioco e scommezze e andranno avanti nelle prossime settimane. Volevo anche ringraziare la parte sana di Rancitelli, perché come ho detto quando mi sono insediato, noi dobbiamo creare una rete sul territorio, quindi questa è la rete della legalità. I cittadini che sono dalle parti della legalità ci troveranno sempre a loro fianco. Dobbiamo sapere essere in grado di separare l'illegalità dei cittadini per bene che ci sono in quell'area. Il sindaco Carlo Masci ha ricordato le iniziative di riqualificazione, che insieme ad Aterra e Regione porteranno nuovi spazi sociali al posto delle palazzine su tutto il caso di Bialago di Borgiano, abbattimento, ricostruzione altrove e progettazione di aree comuni per i residenti, fratto degli abusivi e consegna delle case ai legittimi assegnatari.